In un'epoca caratterizzata da ripetute crisi finanziarie e incertezze economiche, diventa sempre più cruciale gestire i propri risparmi e proteggere il proprio patrimonio. Salvatore Passè, consulente finanziario e patrimoniale, si pone come guida delle famiglie che vogliono gestire meglio i propri risparmi e proteggere il loro patrimonio. Per condividere la sua ultraventennale esperienza e i suoi consigli, Salvatore Passè ha pubblicato Come costruire la tua fortezza patrimoniale, un libro che offre un approccio strategico e consigli pratici per garantire la sicurezza finanziaria delle famiglie in un mondo incerto. Il libro è stato presentato ufficialmente al castello Nelson di Maniaci a Bronte, pubblico delle grandi occasioni, autorità civili e militari hanno riempito la sala. Presente tra gli altri anche il sindaco Appino Firarello, l'onorevole Giuseppe Castiglione, la giunta municipale e numerosi consiglieri comunali. Anche la scelta del sito non è stata lasciata al caso. Da una parte la fortezza che prende il nome dell'eroico ammiraglio britannico Orazio Nelson, dall'altra la fortezza patrimoniale, spiegata nell'opera di Passè, perché tutti abbiamo bisogno di proteggere il nostro patrimonio familiare, una guida autorevole per affrontare le sfide finanziarie a cui il risparmiatore oggi è sottoposto. C'è grande emozione per questo evento, ha affermato il sindaco Firarello. Bronte, al pari delle altre città storiche del territorio nazionale, ha l'opportunità di far conoscere al mondo questo castello, attraverso anche queste iniziative culturali che regalano fascino e magia. Il nostro castello è fra i monumenti più importanti di questa città. Lo abbiamo ristrutturato e reso fruibile. Abbiamo il dovere di consegnarlo alle future generazioni come sicuro volano per lo sviluppo turistico e importante caposaldo di cultura. Devo dire che raramente ho visto questa sala così piena, continua il primo cittadino. Complimenti a Salvatore Passè che è riuscito con il suo evento a focalizzare l'attenzione dei cittadini di Bronte, ma non solo. L'argomento che tratta il libro è di estrema importanza. Ci tocca da vicino il patrimonio, la sicurezza economica, che ruotano attorno a nuove regole per un futuro protetto. Nella serata della presentazione a Bronte, coordinata da Lucio Di Mauro, ha dialogato brillantemente con l'autore Salvo Larosa, affrontando vari argomenti e sfaccettature del testo scritto da Salvatore Passè. Per la vendita del libro sono stati raccolti 3.490 euro. L'intero ricavato, diviso in due, ovvero 1.745 euro ciascuno, è stato devoluto al reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Catania, diretto dal professoressa Giovanna Russo, e al reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina, diretto dal dottor Sascia Agati, primario del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo Bambino Gesù di Taormina.